Ciao ragazzi e bentornati sul canale, io sono Domenico e io sono Marco e oggi abbiamo un box di BT9 di nuovo Esatto, perché non ti bastano le ticket che trovate in una settimana Esatto, perché ragazzi oggi siamo stati al nostro negozio di fiducia e avendo comprato questo Con dentro quattro pacchetti, attenzione quattro, non uno non due ma quattro, ho trovato questo spettacolo Eh vabbè Tanta roba, quindi ho detto ma sai che c'è, prendiamo anche un box, no scherzo il box era già preordinato E lo apriremo Bisogna approfittare adesso che ci sono i super sconti Esatto, adesso lo apriremo come abbiamo fatto l'altra volta nel video precedente che vi metterò qui nelle schede Così, visto che mi ha tirato Di nuovo, gli amici tuoi Ce l'ho già in doppione oltre il quattro per Oh sì, mi serviva Cioè che cosa c'è, perché ti è uscito un rosso-blu insieme a Perché mi serviva semplicemente Sì, ma di solito esce lo stesso colore, perché è uscito un misto? Vabbè, comunque ragazzi Farò come l'altra volta, solo che questa volta non c'è Marco ad aiutarmi per velocizzare Quindi velocizzerò il video a partire da adesso No, scherzo Nooooooo Sono Goku, mi manca Perché? Vabbè Destra-sinistra, quindi Ok E mettiamo via le carte Dicevo, adesso Faremo appunto come nell'ultimo video Che se non l'avete visto Consiste nell'aprire i pacchetti così E mettere l'ultimo a destra E la penultima a sinistra E diciamo che l'unica volta che l'hai fatto Fold Ti ho trovato la sigla L'unica volta che l'ho fatto Siccome l'idea è stata mia Sono solo premiato da una secret divina Sempre da questo set Vabbè, vedete il video ovviamente Non vi spoilerò quale secret ho trovato E quindi da adesso Velocizzerò perché ovviamente Guarda Tutti sti pacchetti Tutti sti pacchetti Ok, ultimo pacchetto Vi siete goduti il periodo velocizzato Ora tutto rallenta Il god back non esiste Ovviamente prima quelle inutili Prima quelle inutili Allora, contiamo come nell'altro video Contiamo quelle non luccicose Quindi Una Due Dovrebbero essere sei Se è solito uguale Se c'è la secret Tre Quattro Cinque Sei Tutte di fila Tutte luccicose Sette Sette addirittura Otto Nove Nove addirittura Nove Non luccicose Eh, a quello dove hai trovato la secret Ce ne erano sei Sì Oh mio Dio E adesso ragazzi Ottimo potrebbe essere già la secret Quella davanti Ma c'è Mi manca Non ci credo Mi stia a pagare sotto Sì Mi manca No, oppure questo qua mi manca Ce n'ho solo uno Tipo Oh Mi stia a pagare sotto Questo mi serve uno Oh Dio Basta Aspetta Devo separare Metto l'SR E quale Dai Mi stia a pagare sotto Perché già ho sofferto oggi Oh Dio Ho fatto la secret davanti Oh mio Dio Mi sono spaventato Visto il blu-rosso R Aspetta Questo è il Goku amico tuo Non hai insultato R Dove sto mettendo l'aria qui SR Cooler No Non mi serve l'SPR Che tensione Fa venire l'ansia Oh è più Già vedo sbrillucci chiostro Yar Mette più tensione così Comunque SPR Sì Cooler No Non mi serve l'SPR Sì Ragazzi Scusa qui Ti mancava Per compito A 4 per di cooler E la trovate Non ti fa una cosa male Benissimo Rara SR Mi sa che già l'ho completato Non mi ricordo ST Un po' di ST Dovresti trovare R Aspetta R Oddio Quanto si vede il bicolore rosso blu? Mi stia a fare l'ansia ST Oh mio Dio che ansia Non la voglio più ST ST Finite Oddio Bene ragazzi Vabbè dai Che ti vuoi lamentare ST 2 Yar Solo Ma che è? Te le dovevo dare io o sell? Cooler SPR Ovviamente le SPR che ti cercavi 2 Majin Buu Goku Cooler E Hit Il leader di Cooler Il leader di Goku E le due carte Vegeta e Androide Bene ragazzi Se il video vi è piaciuto Fatecelo sapere come sempre nei commenti Con tanti bei mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per ricevere sempre le ultime news dal canale Non perdervi nessun video che esce ogni giovedì e lunedì Seguiteci anche su Instagram E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao ragazzi